Salve a tutti e bentornati sul canale, oggi parliamo dell'uomo che muove le cripto e non solo Salve a tutti e bentornati sul canale, qui è sempre Massimo Rea Allora, oggi andiamo a parlare di Elon Musk che in questi giorni è molto scatenato sul suo profilo Twitter e andiamo a vederlo dopo, che cosa ha detto e che cosa è successo però per farci un'idea di chi è questa persona, magari molti di voi non hanno idea di che cosa è perché ha tanta influenza, bisogna sapere che lui nasce come programmatore crea dei piccoli videogiochi, crea un videogioco che vende poi a 500 dollari inizia a studiare in America prendendo delle lauree in merito all'economia in economia, in fisica, in scienza, poi crea un'azienda Zip2 con il fratello poi successivamente crea Paypal, la conoscete sicuramente tutti con la vendita di Paypal crea SpaceX, crea Tesla, sappiamo tutti SolarCity che si occupa di pannelli solari Hyperloop, quindi sviluppo di trasporti super veloci in dei tunnel speciali OpenIA, quindi studio sull'intelligenza artificiale Neuralink, sapete già, impianti di ship nei cervelli per risoluzione di problemi di vario genere e poi Burning Company che si occupa invece della creazione di tunnel sotterranei per evitare traffico e quant'altro Ora, questo è il lato positivo di Elon Musk Lui è giustamente un visionario per riuscire a ottenere questi tipi di risultati non solo, quando creò SpaceX e sapete tutti per chi segue SpaceX lui ha creato molteplici razzi che attualmente, come uno di questi che probabilmente ci porterà su Marte un giorno sono in grado di partire, riatterrare questi sono video reali, effettivamente test reali avvenuti quindi stiamo parlando comunque di una persona che sa esattamente quello che fa insieme al suo team ovviamente poi questo è il lato chiaro di Elon Musk poi c'è il lato oscuro il lato oscuro si scopre con Twitter perché inizia a fare dei tweet che iniziano a sembrare un po' anomali come per esempio quando nel 2020, primo maggio twittò dicendo che il prezzo di Tesla era sopravvalutato e questo fece crollare del 20% la sua azione in quei giorni che erano questi giorni qua e persi intorno al 20% quindi questo fu un primo impatto poi fu anche usato come riferimento da Robert Downey Jr. nel film di Iron Man 2 dove fece una comparsa come lo potete vedere qui fece una comparsa nel film Iron Man perché lui fu preso da Robert Downey Jr. come riferimento di Iron Man quindi questo già ci fa capire che tipo di personaggio stiamo parlando ora in questi giorni ha tweetato molteplici volte in merito sia a Bitcoin sia a Dogecoin quindi andiamo a vedere che ha parlato sia del fatto che si sta organizzando con i sviluppatori di Dogecoin per migliorare l'efficienza delle transazioni di Dogecoin poi ha parlato che per essere chiaro lui crede nel progetto delle cripto ma non può appoggiare un progetto che consuma troppe energia fossile anche se probabilmente bisogna ricordarli che i suoi razzi funzionano con energia fossile o comunque basata sull'energia fossile quindi questa incoerenza purtroppo appartiene anche a questo personaggio poi ha parlato ovviamente del consumo energetico di Bitcoin che però è già risaputo da anni se vi faccio vedere questo grafico di quanto Bitcoin consuma in un anno stiamo parlando di 89 terawatt calcolate che un terawatt sono un miliardo di kilowatt quindi se noi andassimo a fare una stima di una famiglia normale questa una famiglia normale in un anno consuma 3300 kilowatt una famiglia di 3-4 persone e se Bitcoin attualmente consuma in un anno 89 terawatt facendo un calcolo ecco ve l'ho fatto io sono stato un po' più approssimativo ho preso 80 miliardi di watt a fronte di 3300 kilowatt 80 miliardi di kilowatt diviso 3300 per una famiglia quindi praticamente Bitcoin consuma quanto 24 milioni di famiglie all'anno quindi qua ha ragione ma questo dato è già risaputo e si sa da anni già si vede che Bitcoin è comunque sempre stato un grande problema per quanto riguarda i consumi anche perché le aziende prendono in carico soprattutto il mining di Bitcoin un privato difficilmente può ottenere grandi risultati nel mining o perlomeno se non ha delle strutture adeguate questo era per farvi capire che Elon Musk comunque con i suoi tweet è sempre uno stravagante fa muovere Bitcoin e Dogecoin con la notizia dell'altro giorno con l'appoggio allo sviluppo con gli sviluppatori di Dogecoin ha fatto crescere Dogecoin di nuovo che era arrivato qui a perdere la bellezza del 50% con la notizia che sta iniziando a sviluppare delle innovazioni con gli sviluppatori e per l'appunto ha fatto riprendere Dogecoin non solo ha deciso anche di rifare una Dogecoin ossia un satellite che andrà se ora trovo il tweet eccolo qui che andrà su un satellite che verrà lanciato intorno alla Luna per il prossimo anno finanziato con Dogecoin quindi questo è Elon Musk ha ovviamente tanti lati positivi ma come tutte le persone hanno anche un lato negativo purtroppo e questa è la sua stravaganza e si nota nei suoi tweet ragazzi un like se questo video vi è stato di aiuto se vi è piaciuto era solo una chicca per capire ciò che gira intorno al mondo di Elon Musk e quindi di conseguenza anche a ciò che riguarda noi investitori sia crypto che non crypto ciao a tutti da Massimo Rea ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti